Da 75 metri, come vedete, senza ottica e senza appoggio, prova di scoppio del palloncino. Da 75 metri, palloncino ha scoppiato. Questa linea di tiro, questa è la mia balestra, grandissima soddisfazione ovunque sia andata a finire la freccia. Da 75 metri, senza ottica e senza appoggio, come avete visto, in piedi e all'imbracciata. Andiamo a vedere in tempo reale dove è andata a finire la freccia. 75 metri, che dal mio metro e a tante di statura copro in non meno di 100 passi. Avviciniamoci sempre di più. Ho il sole contro. Eccoci qua, siamo quasi arrivati. Una bella passeggiata. Questa è quel che resta del palloncino, questa è la freccia. Ora proverò a estrarla. Non è semplicissimo, con una mano, eccola qua. Qui c'è il palloncino, la freccia è arrivata qui. Quasi centro, praticamente un centro quasi perfetto, da 75 metri. Questa linea di brandeggio, come vedete. Un quasi centro, questo sarebbe praticamente il centro. Perfetto, io sono andato, ma neanche due centimetri sotto. Ottimo tiro, da 75 metri, senza ottica e senza appoggio. Grandissima soddisfazione. Beh, ragazzi, grazie a tutti per la visione. Se vi va, iscrivetevi al canale, mettetevi in piace e soprattutto commentate. Una buona giornata a tutti.